Vedete il colore? Lo riconoscete? Guardate un po' Vabbè, sono contenta, dopo tanto tempo che lo aspettavo Vediamo se riusciamo a spacchettarlo Io ovviamente sono in cucina Ya! Sì! È arrivato! Guardate un po' il mio pacco Bella la borsa! La vedevo da tutte le youtuber E se permettete, la volevo anch'io Dentro che c'è... Però per farsi perdonare potevano anche fare qualche regalino in più Ma in più, non so neanche cosa c'è dentro Però un regalino lo potevano fare Vediamo Qui c'è Danche Ecco il mio gatto che viene a impicciarsi Jerry! Vabbè, padre eccetera 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 Vediamo qui Vabbè Ma chi, ma chi, ma chi Come si diceva? L'ho sentito la pronuncia corretta Ma chi, ia, ia, una cosa del genere Vabbè Poi Cioè, questo è il regalino? No, vabbè No, non ci... Jerry! Non ci posso pensare Dry and wrinkle prone skin Cioè, questo è per farsi perdonare del ritardo Io sono arrivata adesso dal lavoro Stanca morta E mi ritrovo questo? No, dai Ovviamente le solite... Vabbè Lasciamo perdere che tra l'altro queste le odio Potevano darmi Le Aribo Coco 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 Matt Coco Bat No, eh Questo è un danno Va bene Va bene Vabbè Togliamo Il mio indirizzo Perché ovviamente L'indirizzo non si fa Vedere Questo è il mio ordine Ta 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 Sì 3-6 giorni lavorativi Vabbè Lasciamo perdere Vediamo che c'è dentro Andiamo a vedere che cosa c'è In quell'unvolucro di plastica Perché se... Oddio Si è attaccato Lo vediamo? Vediamolo